uno degli agenti, mamma mia ragazzi Mario da Roma, vai Mario, vai vai Mario, dimmi buonasera, volevo chiedere al pavido parento se ha mai visto il ci arriviamo, ci arriviamo, se ha mai visto il video sul sito dell'OMS di come va indossata la mascherina sì, 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 ma è vecchio però, scusi il video tanto vecchio non è perché è ancora online, non verificavo più di un mese fa però comunque non è importante lei mi dice, Lorenzo, che pratica quella liturgia prima di indossarla durante no, no, e quindi possiamo possiamo dire semplicemente che serve posso fare la domanda, è un maleducato è un povero cafone, volevo dire lei è un povero coglione invece ma come si permette, mi dà il cafone a me lei è un coglione, lei sta facendo un esempio lei è un idiota secondo me no, ho già capito cosa lei vuol dire lei vuol dire, siccome non mi lavo le mani sì, sono più intelligente di Mario da Roma perché tu vuoi dire, siccome non mi lavo le mani non faccio quel rito previsto ma vaffanculo, siccome io non mi lavo le mani prima di fare il rito di mettermi come sei violento? perché sei così agitato? ho detto solo che sei un coglione perché ho già capito cosa vuoi dire tu mi vuoi dire ma lo vuoi lasciar parlare però? no, ma te lo dimostro te lo dimostro è un fascista rosso siccome io non mi lavo le mani prima e non faccio quella ritualità che sarebbe prevista vedi che lo so? vedi che allora sei un coglione? ok e allora secondo lui secondo questo coglione non servirebbe a nulla allora dimostra di essere stupido al cubo questo signore perché in realtà dimentica che la mascherina serve a due cose uno a ricordarci di stare distanziati dalle persone che abbiamo di fronte o vicino ma che c'entra? ce lo ricorda e ci aiuta due comunque ce lo ricorda indossarla ma dimettila è naturale se no avvicinarsi alle persone viene naturale anche a me avvicinarmi a una persona allora se ho la mascherina me lo ricordo in Svezia sono matti? no no ma rispondi al merito quindi primo questo secondo protegge te ma soprattutto gli altri perché la mascherina quella chirurgica che non è l'FP2 o l'FP3 io porto l'FP2 e l'FP3 quando vado in autobus quando vado in autobus quando vado in autobus con mio figlio per non infettare gli altri brutto coglione da Roma brutto coglione da Roma siccome uso la mascherina FP2 per proteggere educato un cazzo perché con i coglioni bisogna essere chiari con i coglioni bisogna essere chiari non capisci un'altra lingua Mario da Roma Mario da Roma siccome non io le camiglie gli tiro un calcio come i chihuahua Mario da Roma Mario da Roma adesso chiameranno gli animalisti ma è un modo di dire tirare il calcio al chihuahua che ti morda le camiglie tu sei un cretino e tu sei un cretino mi hai fatto una domanda di cui già sapevo la risposta è stato smerdato durante le puntate di in onda diverse volte quest'estate cosa c'entra questo? ma di che parli? ma non mi risulta in alcun modo ma non mi risulta in alcun modo io vado vado in autobus e porto la mascherina FP2 imbecille ma e di cosa ah quindi siccome ho l'occhiaio sarei malato tu sei tu sei scemo in testa sei scemo in testa sei cretino carretino carretino un cretino carretino carretino che non sei altro Mario devi chiamarlo Mario il cretino però se no non ho ben capito qual è la tesi di Mario c'è la tesi di Mario iniziale qual è? non lo capisco esatto qual è? se nessuno di noi rispetta quelle procedure perché nessuno lo fa noi facciamo dunque la mascherina è inutile dici tu è inutile la teoria che ci stanno profinando che ci proteggerebbe perché in teoria quella mascherina protegge gli altri è di cortesia protegge soprattutto gli altri no noi lo definisce lo definisce lo definisce l'OMS ha detto che va usata in un certo modo e come non la usiamo in quel modo vuol dire che non serve un caso nel tuo caso mettitela nel buco del culo la mascherina visto che la faccia come il culo mettitela lì la mascherina visto che non sai come si usa mettitela lì mi dice dove la potete incontrare che poi ne parliamo di pistola ma vieni qui alla radio vieni qui ti aspetto qua vieni Mario da Roma vieni qua e tu sei un cretino io la denuncio tu sei ma cosa denunci e cosa vai a dire che ti ho detto di metterti la mascherina nel buco del culo si mette a ridere il giudice si mette a ridere mi dice lei ha ragione dice cosa ha detto Marenzo Riente mi ha detto che mi devo mettere la mascherina sul buco del culo perché io la faccio come il culo questo è il tema sono matti aspetta in Svezia in Svezia sono matti giustamente Mario sono matti in Svezia non sai neanche dov'è sulla cartina geografica la Svezia citi cose che non sai non sai neanche dov'è non sai neanche pensi che sia nel Mediterraneo la Svezia calma 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 stai trascimando su cose che non esistono come si è riprodotto è brutto ti do un consiglio mettiti la mascherina nel buco del culo farai meno danni meno danni farai quali sono le nazioni che in Europa fanno indossare la mascherina obbligatoria poi obbligatoria non l'aperto 6 anni manca adesso fermati 6 anni non è obbligatorio niente che cosa dici cosa dici cosa dici cosa dici ho 4 figli ovvio quattro poveri cristiani poveri poveri credi anzi neanche cristiani comunque ma che c'entra adesso all'elementari devono indossare la mascherina se stanno fermi se stanno fermi al loro posto si se tengono le finestre aperte si muovono assolutamente nel resto d'Europa a questa età ciao Mario ciao ciao te lo dico io e la mascherina Daniele la licenza avanti tutta dai avanti tutta ragazzi Perché mi fai litigare Con sta gentaglia qua Mi fai perdere Io perdo la testa La gente è reale Chiedo scusa A questo signore che l'ha chiamato prima Non devi chiedere scusa a nessuno Chiedo scusa a quel coglione di Mario da Roma Dai scusa ho sbagliato Ho sbagliato Scusi Volevo parlare di questa partita De Napoli E che c'è da parlare Grazie